In studio Valentina Frasca. Buonasera e bentrovati, seconda edizione di MTG. Emergono nuovi particolari sulle ultime ore di vita di Pino Adamo, lo sciclitano deceduto all'ospedale maggiore di Modica e per il quale si ipotizza un caso di mala sanità. La sorella fa sapere che l'uomo aveva chiesto ai medici di poter assumere i farmaci della sua consueta terapia, essendo cardiopatico, ma non gli sono stati somministrati perché i dottori volevano prima capire cosa avesse. Quindi le cure sono state sospese per diverse ore. In quelle ore cruciali, le ultime della sua vita, Pino Adamo ha chiesto ai medici di poter assumere i farmaci che erano alla base della sua consueta terapia, ma non gli sono stati somministrati perché i dottori volevano prima capire cosa avesse. Quindi le cure sono state sospese per tutta la notte e tutto il giorno trascorsi in attesa. Al pronto soccorso prima e nel reparto di cardiologia poi. A dirlo è la sorella di Pino, lo sciclitano di 58 anni, cardiopatico da 8, deceduto all'ospedale maggiore di Modica e per il quale si ipotizza un caso di mala sanità. Carmela ora chiede giustizia per suo fratello, convinta che un intervento tempestivo lo avrebbe potuto strappare alla morte. Secondo noi la colpa è stata dei dottori e io vorrei sapere quello che noi stesso ci stiamo chiedendo, questo dottore che arriva dopo due ore, dove è stato? Che Massimo che poteva perdere una mezz'oretta perché era una cosa molto grave di mio fratello, mio fratello era cardiopatico e poi ancora è tenuto al pronto soccorso e poi dopo tre ore lo salgono in cardiologia, ma per fare le cose dopo perché non c'era niente più niente da fare. Io ho visto il mio fratello, sono entrato in cardiologia perché non c'era nessuno in quel reparto e chiedeva aiuto. Mentre le indagini coordinate dalla procura di Ragusa vanno avanti, la famiglia si è affidata ad un legale, l'avvocato Giuseppe Aprile Carbone, che al momento preferisce non rilasciare dichiarazioni in attesa dei documenti per i quali ha presentato richiesta di accesso agli atti e dell'esito di perizie ed autopsie, attesi non prima di novembre. Due cani randaggi morti sono stati ritrovati nelle campagne di Sciacca, nell'Agrigentino, a pochi metri di distanza l'uno dall'altro, carabinieri e veterinari dell'ASPA hanno rinvenuto sulle carcasse dei due animali evidenti segni di colpi di arma da fuoco. È stato disposto il trasferimento dei cani all'Istituto Zooprofilattico di Palermo dove saranno sottoposti agli esami del caso. Dal 2 settembre, data in cui ha avuto inizio in regime di preapertura alla stagione benatoria 2023-2024, il Comando di Polizia Provinciale di Ragusa ha controllato quasi 100 cacciatori, di cui 15 sono stati denunciati in stato di libertà all'autorità giudiziaria per le ipotesi di reato che vanno dall'esercizio benatorio all'interno di aree protette alla caccia, specie non consentite, al porto abusivo di arma fino al furto benatorio e alla caccia con mezzi vietati. Tre di loro provenivano dalla Calabria, gli altri tre risultano residenti a Vittoria, Modica, Rosolini e Messina. Tra i denunciati pure un vittoriese di 69 anni che, privo di porto d'armi, nella notte del 2 settembre è stato sorpreso a cacciare conigli, ne aveva abbattuti già tre, sparando con un fucile rudimentale costruito artigianalmente e privo di ogni requisito di sicurezza. Pistola e cartucce lasciate dentro la cassetta delle lettere nell'abitazione di un professionista di 69 anni della provincia di Agrigento. Si tratta per la polizia di un avvertimento nei confronti dell'uomo. Le indagini sono in corso. La squadra mobile di Agrigento sta indagando per risalire a chi ha lasciato domenica mattina un involucro di stoffa gialla con all'interno una pistola revolver calibro 6 mm e nel tamburo sette cartucce. Lo ha lasciato nella cassetta della posta dell'abitazione del professionista di 69 anni di Agrigento nei pressi di San Leone. L'arma con matricola Brasa è stata sequestrata dalla polizia, sul posto anche la scientifica che si è occupata dei rilievi per scovare eventuali tracce utili alle indagini. Per gli investigatori non ci sarebbero dubbi, si tratterebbe di un avvertimento. Il revolver verrà sottoposto a tutti gli accertamenti ritenuti necessari per trovare a tracciarne la provenienza e se sia stato o meno già utilizzato ed eventualmente in che contesto. L'allarme è scattato a mezzogiorno, sul posto sono intervenuti immediatamente i poliziotti della questura di Agrigento che hanno effettuato i rilievi necessari per trovare e cristallizzare eventuali tracce utili all'inchiesta che è stata aperta dalla procura di Agrigento al momento a carico di ignoti. Bocche cucite dalla squadra mobile che probabilmente avrà già sentito il 69enne. Ricorderete la storia di Chris Maill, il neonato originario della costa d'Avorio, rimasto orfano di mamma durante la traversata fino a Lampedusa lo scorso mese di aprile, affidato alla famiglia di una dottoressa che lo ha accolto nella sua casa di Palermo. Poco dopo però è stato portato in una struttura protetta e adesso la donna rompe il silenzio e chiede di sapere il perché della revoca dell'affido temporaneo. Il piccolo Chris Maill è di nuovo senza una famiglia. Alla fine di aprile aveva perso la mamma in un naufragio durante una traversata ed era stato accolto dalla famiglia della dottoressa che lo aveva soccorso a Lampedusa con il consenso del padre rimasto in Tunisia. Pochi giorni dopo però il giudice dei minori aveva revocato l'affido temporaneo del bambino e Alessandra Teresi, medico rianimatore del 118, ora rompe il silenzio. L'ha amato come un figlio da quando l'ha visto e vorrebbe solo sapere perché le è stato tolto. Sei mesi, originario della costa d'Avorio, il piccolo ha trovato in Alessandra, in suo marito e nel figlio di 14 anni, una famiglia. È all'interno dell'hotspot in piena emergenza che il bambino viene portato ma lì non può restare quindi la dottoressa che deve tornare a Palermo dà la disponibilità di accoglierlo a casa fino all'arrivo del padre. Il Tribunale dei minori, anche grazie al consenso del papà, acconsente. La dottoressa sa bene che si tratta di un affido temporaneo e che Crisma Hill non resterà con lei per sempre ma l'arrevoca arriva troppo presto e il bambino viene mandato in una struttura protetta. Senza alcuna spiegazione, senza nessun cenno al motivo dell'arrevoca. Per noi è stato un enorme trauma, dice, pensiamo a lui continuamente. Alla donna la polizia si limita a parlare di errori nella procedura di affido. Il Tribunale dei minorenni tace e la famiglia, che per lui aveva allestito di tutto punto una cameretta, non ha più avuto notizie del piccolo. Non ci vogliono dire dov'è, dice Alessandra, né ce lo fanno vedere. Noi vogliamo solo quel che è meglio per lui, ma certo una casa vera, almeno fin quando rivedrà suo padre, conclude. è meglio di un orfanotrofio. La compagnia aerea EasyJet annuncia nuove rotte, due sono nazionali, due internazionali e annuncia anche l'inizio delle operazioni sul Pio La Torre di Commiso a partire da novembre. si volerà su Milano Malpensa e dall'estate prossima su Napoli. Torna ad arricchirsi pian piano dopo l'abbandono di Ryanair l'offerta dell'aeroporto di Commiso. EasyJet ha annunciato quattro nuove rotte, due nazionali e due internazionali e ha detto di essere pronta ad avviare le operazioni dal Pio La Torre che collegherà con le proprie basi di Milano Malpensa e Napoli rispettivamente a partire da novembre e dalla prossima estate. La nuova rotta da Milano Malpensa a Commiso sarà operata per tutto l'anno a partire dal 24 novembre. Inizialmente i voli settimanali nel programma invernale saranno due, il lunedì e il venerdì. EasyJet inoltre ha annunciato il nuovo collegamento tra Napoli e Commiso, operativo dall'estate 2024. I voli sulla rotta Milano Malpensa a Commiso sono in vendita già da oggi, 5 settembre, sul sito easyjet.com e sull'app della compagnia aerea. Sempre più prodotti all'estero presentano il nome del prodotto unito all'appellativo mafioso. Dalle olive mafiose ai mafia pomodori all'estero, la pubblicità è un tunnel degli orrori per chi ha realmente investito nel Made in Italy. Lo sottolinea e lo denuncia col diretti. La salsa dei mafiosi, le olive mafiose oppure il mafia whisky. Stop al mafia sounding a dirlo e col diretti. L'appello alle istituzioni per bloccare lo schema di promozione di prodotti esportati all'estero con l'appellativo mafioso al prodotto. Un business milionario, quello del mafia sounding, con una galleria degli orrori, dice col diretti, che colpisce il vero Made in Italy realizzato grazie all'impegno di centinaia di migliaia di imprenditori onesti che tutti i giorni lavorano per offrire prodotti di altissima qualità. Col diretti plaude all'azione della regione siciliana che ha vietato la vendita di souvenir con immagini riferite alla mafia sul traghetto Sicilia-Calabria, grazie alla segnalazione dell'artista Maria Incudine. Da anni la col diretti denuncia questo fenomeno che mortifica un'intera regione dove non mancano addirittura etichette di prodotti e nomi di ristoranti tipo il Fernet Mafiosi, con tanto di disegno del padrino, aggiunge. Un sistema articolato e diffuso ovunque, dal whisky Cosa Nostra, con tanto di bottiglia a forma di mitra, al vino, al caffè, prodotti che ripropongono sempre quell'appellativo mafioso. Al gravissimo danno di immagine del mafia marketing si aggiunge la beffa dello sfruttamento economico del made in Italy in una situazione in cui la contraffazione e la falsificazione dei prodotti alimentari italiani solo nell'agroalimentare ha ormai superato i 120 miliardi di euro, quasi il doppio delle esportazioni, e che costa all'Italia 300.000 posti di lavoro, conclude col diretti. Stretta sulla Movida a Palermo, controlli stringenti nel quartiere della Vuciria. Non si fermano i controlli nel quartiere della Vuciria a Palermo, luogo in cui, poco distante, è avvenuto lo stupro della 19enne. Effetto diretto di quanto concordato tra autorità palermitane in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Comune già aveva previsto, prima del famoso caso di cronaca, azioni repressive. Dopo il vertice in prefettura, l'azione ha ancora più stringente dei controlli sulla Movida, in particolare il contrasto agli abusivi. Troppi banchetti di vendita alcolici, senza licenza e filodiffusione non regolamentata. Attività fantasma che ledono anche il lavoro di chi è in regola. La Vuciria è uno dei quartieri della Movida Palermitana, motivo per cui i controlli sono stati intensificati, coordinati dalla Polizia, che hanno visto l'impiego di carabinieri e guardia di finanza. Ancora controlli, dunque, che hanno visto anche la partecipazione della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco. Sono stati sequestrati 12 banconi, di cui due riconducibili ad altrettanti venditori abusivi, che sono stati sanzionati in quanto sprovvisti della prevista autorizzazione della vendita prevista per le aree pubbliche. Inoltre sono stati sequestrati un frigorifero verticale pieno di bevande e un carrello da supermercato ricolmo di bibite di vario genere e alcune casse di bevande. Durante i controlli sono state identificate 25 persone, tutte con precedenti penali. Controlli delle forze dell'ordine anche a Marina di Modica. Spaccio di stupefacenti scoperto nei pressi dell'auditorium. La polizia ha denunciato un pusher e ha sequestrato droga e denaro. È scattato un provvedimento di daspo urbano nei confronti di un uomo trovato in possesso di diverse dosi di sostanze stupefacenti e della somma di 360 euro in banconote di vario taglio. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Ragusa, Vincenzo Trompadore, che ha disposto controlli durante tutta l'estate lungo la fascia costiera, condivisi con i comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza, dopo il comitato per l'ordine e la sicurezza convocato in prefettura. Gli agenti del commissariato di Modica, in occasione di un controllo amministrativo presso l'auditorium mediterraneo a Marina di Modica, dove era in corso una serata danzante, insospettiti dall'atteggiamento di un uomo che stava alle spalle del palco, lo sottoponevano a una perquisizione personale, trovandolo in possesso di sostanze stupefacenti e di una consistente somma di denaro che veniva sequestrata, l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. La presenza dell'uomo è stata segnalata alla divisione Polizia Anticrimine della Questura di Ragusa, che ha avviato un'accurata istruttoria in considerazione della condotta illecita tenuta dall'uomo dell'attività di spaccio, svolta all'interno di uno spazio aperto al pubblico, dove si stava svolgendo una serata danzante con la partecipazione di giovani e famiglie ha portato all'adozione della specifica misura di prevenzione che prevede il divieto per un anno di eccesso e stazionamento nelle vicinanze dei locali pubblici o aperti al pubblico ubicati in alcune strade di Marina di Modica, compresi i tratti di arenile pertinenti. Ciò in ragione dei luoghi in cui è stata commessa la contestata attività delittuosa. La violazione di questo divieto comporterebbe la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro. Portiamo pagina, la prossima settimana le scuole riapriranno ufficialmente e in questi giorni è in corso l'organizzazione delle classi. Vediamo come sta andando. Gli istituti scolastici si preparano al suono della campanella fissato in Sicilia per il 13 di settembre. Molti istituti hanno scelto di anticipare la data del 13 per beneficiare di qualche ponte in più. Girando per il territorio isolano, già gli istituti stanno preparando le aule che accoglieranno le nuove classi e allo stesso tempo i docenti si stanno confrontando sul piano di studi e su come impostare un anno scolastico che deve essere nel segno della tradizione e dell'innovazione per garantire sempre una costanza di crescita e di evoluzione degli studenti. Siamo all'inizio del nuovo anno scolastico 2023-2024 e come di consueto le scuole si stanno organizzando con i collegi docenti iniziati per la programmazione del piano annuale delle attività, per l'organizzazione iniziale delle attività didattiche, l'accoglienza alle uni, l'organizzazione, l'assegnazione dei docenti alle classi e tutte le operazioni che caratterizzano generalmente quello che è l'inizio del nuovo anno scolastico. In particolare quest'anno ci troveremo sicuramente ad affrontare anche problemi legati al dimensionamento scolastico e altre problematiche del genere. Io per esempio sto trovando qui a Piana Gesù un cantiere aperto ma penso che questa problematica possa interessare anche altre scuole. Uno dei problemi legati all'avvio dell'anno scolastico che le famiglie sono chiamate in questi giorni a fronteggiare è sicuramente quello del caro Libri. Ma a Palermo gli studenti si sono organizzati. Scopriamo come. A Palermo per affrontare il caro Libri gli studenti hanno scelto di aprire un mercatino a presentarlo già il nome Sparagnamo che tradotto in lingua italiana vuol dire risparmiamo una iniziativa organizzata dagli studenti del collettivo autonomo del liceo scientifico Einstein in via Vivaldi ma ha aperto agli alunni di tutte le scuole. Da ieri sino all'inizio delle lezioni sarà possibile vendere i libri che non si usano più e acquistarne altri di seconda mano a prezzi bassi una soluzione contro il caro Libri. Per Feder Consumatori il rincaro dei libri si aggira attorno al 6% calcolando anche che a questo va aggiunto il corredo scolastico. Una base di 640 euro mediamente per famiglia il prezzo aumenta al liceo toccando in alcuni casi anche gli oltre 1.100 euro per studente. Proprio per questi motivi i ragazzi hanno scelto di fare rete e aprire il mercatino. Sparagnamo! Anche quest'anno abbiamo deciso di organizzare il mercatino del libro usato per far fronte al problema del caro Libri. Un problema che ogni anno aumenta sempre di più è che vede la Sicilia in testa alla classifica. Noi crediamo sia inaccettabile il fatto che le nostre famiglie siano costrette a spendere un sacco di soldi per il corredo scolastico minimo. Per questo abbiamo deciso di organizzarci per rendere più accessibili a tutti l'acquisto dei libri. Ci trovate davanti a scuola ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12. L'Avis provinciale di Ragusa rende noti i risultati della raccolta di sangue plasma nei mesi di luglio e agosto, che tradizionalmente sono i più difficili. I numeri restano buoni, ma sono lievemente inferiori rispetto a quelli straordinari degli ultimi anni. Le unità di sangue che le Avis comunali della provincia di Ragusa hanno raccolto quest'anno nei mesi di luglio e agosto sono 6.897. Un buon risultato, anche se lievemente inferiore rispetto agli anni passati. Ciò conferma, dichiara il presidente dell'Avis provinciale di Ragusa, il dottore Salvatore Poidomani, quanto sia importante non adagiarsi sugli allori, pur in considerazione dei risultati positivi conseguiti e del trend di crescita che si registra da molti anni nel territorio ibleo relativamente alla raccolta di sangue intero e plasma. Poi domani ringrazio a donatori e donatrici che permettono, con la loro generosità, di garantire il fabbisogno di sangue non solo a livello provinciale, ma anche in altre realtà territoriali della regione carenti di sangue e meno sensibili alle donazioni. Dobbiamo anche riconoscere l'impegno quotidiano dei nostri dirigenti associativi che volontariamente e con grande senso di dedizione operano nelle Avis comunali insieme al personale amministrativo e sanitario. Al personale dell'Avis, dice il presidente, si aggiungono gli operatori del servizio trasfusionale dell'ASP di Ragusa. La capacità di fare rete, di fare gioco di squadra tra la struttura pubblica e l'associazione è uno dei fattori che consente il raggiungimento di traguardi così significativi e costanti. A tutti gli attori del cosiddetto sistema integrato Ragusa, conclude il presidente, va il nostro più sentito ringraziamento. L'Avis invita tutti a continuare a donare, garantendo alle strutture sanitarie e agli ospedali un prezioso farmaco salvavita per far fronte a tutte quelle situazioni in cui esso è indispensabile per salvare vite umane. Otto proposte al governo Meloni per migliorare l'impatto dell'inquinamento sull'ambiente, in particolar modo quello marino, a proporlo è il legambiente che si è detta preoccupata per il report Mare Monstrum 2022. Cemento illegale, inquinamento, mala depurazione, pesca di frodo mettono sotto scacco il mare italiano e le aree costiere. Sono ben 19.530 reati ambientali accertati nel 2022 lungo le coste italiane, con un più 3,2% rispetto al 2021. È preoccupante per legambiente il quadro che emerge dal rapporto Mare Monstrum sugli ecoreati perpetrati sulle coste italiane, tanto che l'Associazione Ambientalista incalza il governo perché è urgente intervenire. La Sicilia è al terzo posto per reati ambientali con 2.184, 4.198 illeciti amministrativi e ben 8.712 sanzioni. Il focus sui prodotti ittici sequestrati nel 2022 parla di 400 tonnellate complessive di prodotti ittici sequestrati, quasi 1.097 kg al giorno. La Sicilia primeggia con oltre 129 tonnellate. Lega Ambiente ha oggi inoltrato otto proposte al governo Meloni. Tra queste, la demolizione delle costruzioni abusive oggetto di ordinanze di abbattimento emesse ma non eseguite dai comuni. Rafforzare l'attività di contrasto delle occupazioni abusive e del demanio marittimo. Rilanciare la messa a regola dei sistemi fognari e di depurazione, migliorando in generale l'intero sistema di gestione, integrando il ciclo idrico, correttamente fognario e depurazione con quello dei rifiuti. Efficientare la depurazione delle acque e reflue, valorizzandole come risorse e permettendone il completo riutilizzo in settori strategici, come l'agricoltura, superando gli ostacoli normativi nazionali. Inoltre, Lega Ambiente propone al governo di regolamentare in maniera stringente lo scarico in mare del rifiuti liquidi, istituendo, per esempio, delle zone speciali di divieto di qualsiasi tipo di scarico, anche oltre le 12 miglia dalla costa. Promuovere politiche attive per la prevenzione nella produzione di rifiuti e per la migliore tutela del mare e della costa. Attuare, da parte del governo e del Parlamento, adeguati interventi normativi contro la pesca illegale, non dichiarata e non documentata. Ci fermiamo qualche minuto, c'è la pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Bentrovati, seconda parte di MTG, andiamo a Mazzarino, dove è tempo di raccolta delle mandorle, il prodotto principe dell'economia locale. Noi siamo andati all'interno di una delle principali aziende del territorio, che produce soprattutto biologico e che esporta in tutta Europa un prodotto dalle caratteristiche davvero uniche. Nel maggio scorso, il successo della prima edizione della Festa della Mandorla, in occasione delle celebrazioni, in onore del Santissimo Crocifisso dell'Olmo. Adesso, a Mazzarino, è tempo di raccolta di questo prodotto, principe dell'economia. Quest'anno, il Comune ha deciso di organizzare la Festa della Mandorla, quindi abbiamo deciso di far partecipare tutti i locali di Mazzarino, le pasticcerie, panificio, affinché creassero questo prodotto per la valorizzazione appunto della Mandorla. Com'è andata? No, è andata benissimo. Per essere la prima edizione è andata veramente benissimo. Non mi aspettavo tutto questo afflusso di gente. In contrada a Monte Mosso, nel triangolo di terra tra Mazzarino, Riesi e Butera, si procede velocemente con il sistema di scuotitore ad ombrello che non danneggia le piante. Quello che cade al suolo è un prodotto davvero unico. I nostri territori garantiscono delle produzioni di qualità. La mandorla è chiaramente una fonte proteica, ricca di vitamine, soprattutto la vitamina E, e anche il cosiddetto omega 3. In questo areale fortemente evocato alla produzione della mandorla e nel quale si trova l'azienda di Rocco Selvaggio, presidente della OP La Mandorla, si produce mandorla da tempo in memore. I nostri sicuramente antenati coltivavano la mandorla e la utilizzavano sia come fonte di alimentazione che il sottoprodotto, per esempio, anche veniva utilizzato molto spesso per alimentare i riscaldamenti, per alimentare i forni quando, per esempio, i nostri nonni facevano il pane. L'organizzazione dei produttori è stata riconosciuta nel 2016 e raccoglie esperti nel settore della mandorlicoltura, tecnici e produttori che lavorano ogni giorno con un obiettivo, il rilancio e la rinascita della mandorla siciliana. Una OP che è la prima nata in Italia e che raccoglie quanti produttori, presidente? Al momento 110 produttori, ma sono sempre in aumento, ogni anno. 100 sono tutti in biologico. E di dove sono questi 110 produttori? Racchiudono tre province che sono Caltanissetta, Enna ed Agrigento. Stiamo cercando di fare la valorizzazione della mandorla e esportandola anche nei paesi come Francia e Germania. La comunità di Militello in Val di Catania si prepara a festeggiare Maria Santissima della Stella. Le celebrazioni però naturalmente saranno quest'anno in tono minore dopo quello che è successo lo scorso 18 agosto in occasione della festa del Patrono. Con la tradizionale cantata del 29 agosto per le vie della città, Militello in Val di Catania ha iniziato a vivere la trepidazione per i festeggiamenti in onore a Maria Santissima della Stella. Il borgo si appresta a vivere l'area di festa, ma in tono decisamente minore rispetto ai tradizionali festeggiamenti. La comunità ha scelto di celebrare Maria Santissima della Stella con devozione, unione e riflessione per non dimenticare quanto accaduto il 18 agosto quando, durante i festeggiamenti del Santissimo Salvatore, perse la vita il 65enne Franco Carrera. Quest'anno ci si sta preparando in tono molto sobrio, ci saranno solo ed esclusivamente delle funzioni religiose, la processione come ogni anno che porterà la nostra patrona in giro per la città di Meritello e la risposta del popolo meritellese sicuramente sarà quella di ogni anno che accoglierà Maria dentro le proprie case. Le celebrazioni hanno visto il primo momento importante il 29 agosto e adesso c'è molta attesa per la sera del 7 settembre quando il volto del simulacro della Vergine Maria apparirà dinnanzi ai fedeli e ai devoti. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Buon proseguimento su Video Mediterraneo.